Il ferro dice di no, più Walter Hedwig dice di sì. La difesa non sia andata così male, ma tutti gli altri la Virtus abbia attaccato molto bene, come Alessandro Gentile. Ancora no! Il scarico arriva anche Melli per liberare Mosse nell'angolo, vola Eregar, l'asse play pivot di Milano fa una magia. Wilde va a stoppare Mosse, che era stato pescato magicamente da Samuels dopo il ritazzo offensivo. E lo spettacolo arriva all'Unipol Arena, Ragland due Eregar. Grazie a tutti!